Ha ragione signora, tardi scusi per l'ora, perché di notte siamo vivi, o forse meno depressi. La scusa sarà banale, ma a noi cosa rimane, i generi della riscossa e l'invito irrazionale, la verità è che in fondo ci vorreste doppi e muti, ma c'è persino chi pensa che staremo meglio e morti. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione manca di opinioni, perché va a metterle via, io sono a casa mia, e non c'è quella di fame. La mia generazione ti cerca di passione, ci scusi per l'arroganza, è l'unica cosa che avanza, noi anche in terreni neutrali, urliamo come maiali. E ripagendo un po' i conti, non siamo mica unici, vi siete venduti anche in forse, rendendoci sterili. I quali meriti parla se siano così inutili, imiteremo i bisogni e vizi tecnologici. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione non ha concentrazione. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione. Ma io resterò qua, perché così mi va, e poi dentro tra noi la mia generazione. Grazie a tutti